Allora, questo è il post di Gino Strada, no? Che so, mi hanno detto che lei voleva intensamente provare una collaborazione di Gino Strada con tutto quello che ha fatto. Dice Gino Strada, dopo quei primi colloqui non mi è stata fatta alcuna proposta formale. Allora, dice, io non voglio neanche alimentare l'equivoco, soprattutto di una mia indecisione. Avevo messo a disposizione il lavoro mio di Emergency, che tra l'altro io so benissimo che l'opera anche in Calabria da molto tempo, però sa di fatto che nessuno mai mi ha più chiamato. Allora, lei che è un grande sponsor, lo possiamo dire, di Gino Strada, ci vuole spiegare cosa succede? Succede che forse c'è necessità di prendere il coraggio in certi momenti e bisogna dire che in Calabria è necessario intervenire ponendo Gino Strada e l'organizzazione da lui promossa e guidata, appunto Emergency, come baluardo per restituire ai cittadini calabresi una dignitosa sanità pubblica e soprattutto per fermare le infiltrazioni dell'Andrangheta, perché l'Andrangheta, come ha sottolineato anche un certo Nicola Gratteri, quasi quasi fa più soldi con le ASP, con le aziende sanitarie territoriali, piuttosto che con la cocaina. Io vorrei ricordare a tutti quanti che soprattutto da Presidente della Commissione Antimafia ho deciso di avviare questa interlocuzione con Gino Strada perché se su cinque aziende sanitarie territoriali, ben due, sono ora sciolte per infiltrazioni mafiose, qualche problema evidentemente ci sarà. Però lui dice, non mi chiamate? Ma chi è che vuole chiamare? Conte? Ecco, ci svedi questa storia. Come le ho detto, c'è necessità di coraggio e quindi io sto cercando in tanti modi, con tante interlocuzioni, di far capire perché questo è un governo di coalizione, perché ci sono tanti che hanno indugi, hanno preoccupazioni nell'individuare in Gino Strada una persona capace di rivoluzionare la sanità calabrese. però io sto cercando un pochino di far capire a queste persone che sono paurose che non c'è necessità di essere paurosi. Bisogna avere il coraggio di certe scelte. Lei poc'anzi stava citando un cosentino, l'ex ministro dei lavori pubblici nonché della sanità Giacomo Mancini, quando in Italia ha deciso che si dovesse portare il vaccino per l'antipoglio. Benissimo, a questo punto c'è la necessità di capire che c'è tutto un mondo che non è soltanto quello di chi pretende che con giustizia il diritto alla salute dei calabresi che non sono cittadini di serie B venga salvaguardato. Ma accanto a questo mondo c'è il mondo dell'antimafia che sostiene che ormai i profitti fatti attraverso questa infiltrazione della sanità siano profitti enormi.